Per me è un club che sta sempre in mio coraggio, che sono un aficionato in questo momento dell'atlete e lo sto sempre appogando in Repubblica Checa. Uffa, con pello largo, eh? Todavia. Ho sempre intentato lasciare tutto nel campo. E, generalmente, sono un figlio molto tranquillo, ma nel campo, chiaro, voglio, 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 e ho provato a mettere tutto. E sono molto orgoglioso. In due mesi o in tre mesi, ho avuto due titoli, è davvero espectacular. Sobretutto, il giorno dopo, la celebrazione con la gente qui al Neptuno, con quasi 159 persone, è inolvidabile. Ho avuto molto, però un momento così, non ho mai. La squadra ha cambiato, credo, moltissimo, moltissimo. Solo Koke, che è ancora qui, che ha più partiti di tutti, nella storia dell'Atletico, è sempre un piacere per me, venire qui e vedere la gente che conosco. Con Diego e Simeone, io credo che sono uno dei migliori club del mondo in questo momento. Ho cresciuto molto e sono molto contento. Per me, i anni sono inolvidabili, e soprattutto ho avuto due titoli con l'Atletico Madrid, sempre lo tengo nel corazon.